I magistrati bolognesi indagano sugli effetti degli scavi della variante di Valico che stanno provocando danni in appennino nei pressi di Ripoli. Si ipotizza il reato di disastro colposo. In arrivo una consulenza tecnica. Nuova inchiesta della procura di Bologna su una presunta cellula islamica attiva tra Imola e Ravenna. I 12 già indagati sono stati perquisiti dalla Digos. Trovati video con addestramenti alla guerriglia e altro materiale. Il PD Emiliano Romagnolo dice no ad una candidatura alternativa a Bersani. Il segretario Bonaccini attende l'esito della convention dei rottamatori in corso a Firenze e dice ben vengano le nuove idee ma il partito non può rischiare. Viaggio a Roma per ottenere le risorse per le infrastrutture bolognesi. Il sindaco Merola sarà nella capitale lunedì col sostegno bipartisan del ministro Bernini e incontrerà Matteoli. Intanto dal PD arrivano dubbi. Calcio. Il Bologna prova a sfatare il tabù dall'area. In campo domani alle 15 contro l'Atalanta che senza penalizzazione sarebbe seconda in classifica. Il rosso-blu cercano i primi punti davanti al pubblico amico. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per disastro colposo sulla frana di Ripoli, Santa Cristina, sulla Penino Bolognese, finora sui tavoli del Tribunale c'era solo un fascicolo conoscitivo sulla questione di cui ci siamo spesso occupati anche noi nei nostri telegiornali ma ora i magistrati vogliono capire se ci sono eventualmente delle responsabilità da attribuire e in quel caso a chi. Vediamo il servizio di Gabriele Sciarra. Ora c'è anche l'ipotesi di reato ed è quella di disastro colposo. Un fascicolo conoscitivo sulla frana di Ripoli, frazione di San Benedetto Valdisambro, era già stato aperto nel maggio scorso dalla Procura di Bologna dopo un esposto presentato dai residenti della frazione sotto la quale si sta scavando un tunnel della variante di Valico. Ora gli inquirenti vogliono capire se la causa della ripresa del movimento franoso che nei giorni scorsi ha portato allo sgombero di alcune abitazioni sia da cercare nei lavori della sottostante galleria. Nei prossimi giorni sarà nominata dal Tribunale un'apposita commissione tecnica mentre al momento l'inchiesta individua come parti offese la società Autostrade, la Regione Mila-Romagna e le famiglie evacuate. Tutti dovranno nominare un perito di parte e sulla base dei risultati la Procura dovrà stabilire quale sia il modo migliore per fermare il movimento franoso fosse anche il sequestro del cantiere. Se poi dovessero emergere precise responsabilità di qualcuno a loro sarà chiesto di rifondere i danni. Il reato ipotizzato è dunque quello di disastro colposo e già da qualche giorno i carabinieri di Vergato cui sono state affidate le indagini hanno cominciato a sentire persone coinvolte a vario titolo nella vicenda. Nuova inchiesta invece della Procura di Bologna su una presunta cellula islamica operativa tra Imola e Ravenna. I dodici già indagati sono tutti magrebini e in questi giorni la Digos ha perquisito le loro abitazioni trovando materiale. Ci informa Federico Balletti. Documenti che difendono le azioni della GIA ha dei video di addestramenti per ipotetiche azioni di guerriglia islamica. Materiale che si scarica da internet e che la Digos di Bologna ha sequestrato a casa di 12 nordafricani che abitano fra Imola e Ravennate tutti indagati per associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale. Il sospetto è che il gruppo romagnolo costituisca l'ennesima cellula jihadista e caricata a distruire e indottrinare futuri combattenti. A disporre il blitz della Digos è stato il PM Enrico Ceri nell'ambito di una nuova inchiesta della Procura di Bologna nata dopo quella gemella che fra il 2010 e il 2011 portò alla condanna in primo e in secondo grado di sei magrebini colpevoli, secondo la Corte d'Assise di aver creato nell'Imolese una cellula islamica un gruppo che non aveva progetti concreti di attentati da mettere a segno in Italia ma si adoperava per raccogliere denaro per la causa della jihad e per supportare eventuali azioni terroristiche da compiere all'estero. Chiusa quell'inchiesta, ne è stata aperta un'altra per verificare l'operato di alcuni connazionali dei sei condannati che sarebbero appunto i dodici perquisiti in questi giorni tutti perfettamente insediati nel territorio fra Imola, Faenza e Ravenna dove vivono da tempo. Il materiale sequestrato, cartaceo, audio e video si può trovare facilmente su internet ora Procura e Digos dovranno capire se lo avevano in casa per uso personale oppure, come il sospetto degli inquirenti per fare propaganda alla lotta religiosa. Secondo l'avvocato Desi Bruno che difese i sei della precedente inchiesta e assisterà anche alcuni dei nuovi indagati i dodici magrebini si dicono tranquilli e sereni e ritengono di non avere commesso nessun reato. Le manganellate delle forze dell'ordine che lo scorso 12 ottobre durante la manifestazione in Piazza Cavour a Bologna colpirono in pieno viso una ragazza di 22 anni Martina sono ora al centro di un fascicolo contro ignoti aperto dalla Procura che ipotizza il reato di lesioni volontarie. La giovane appartenente ad un collettivo cittadino che protestava davanti alla sede della Banca d'Italia perse quattro denti. L'inchiesta procede d'ufficio per la gravità delle lesioni e dovrà stabilire se il comportamento delle forze dell'ordine fu commisurato a quello della manifestante alla situazione. Si tenterà poi di identificare il responsabile del gesto. Gli scontri erano avvenuti dopo che il gruppo dei manifestanti voleva fare eruzione in Banca d'Italia. I collettivi hanno sostenuto che la ragazza disarmata fu colpita senza motivo. Ora la Procura sta acquisendo video e foto dei tafferugli per un episodio simile risalente al 2009. Si è appreso oggi un carabiniere è stato citato a giudizio con l'accusa di avere colpito con una manganellata in testa una ragazza di 24 anni durante una manifestazione davanti al rettorato di via Zamboni. Ed ora la cronaca camminava sul ciglio della strada per cercare il portafogli che aveva smarrito quando è stato falciato e ucciso da un autocarro. È un romeno di 31 anni Julian Eduard Terchea la vittima di un incidente avvenuto verso le 7.30 sulla via Emilia poco fuori dall'abitato di Imola. Il giovane che viveva a Faenza era insieme alla moglie con la quale era tornato nel punto dove la sera precedente aveva perduto il portafogli. Dopo l'investimento è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Imola ma è morto un'ora dopo il ricovero per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. E cambiamo argomento questo pomeriggio in Piazza Nettuno i disabili e le loro famiglie hanno organizzato un vero e proprio flash mob. Per alcuni minuti si sono sdraiati a terra per protestare contro i tagli del governo. è andato per noi Giuseppe Piloni. Tutti giù per terra in Piazza Nettuno per protestare contro i tagli del governo. Questa volta a scendere in piazza sono stati i disabili e le loro famiglie. Abbiamo deciso insieme ad altri familiari con ragazzi con disabilità grave e con persone disabili di dare un segnale concreto alle amministrazioni, alle istituzioni al governo in modo particolare se riusciamo ad arrivarci anche attraverso questa iniziativa che i tagli sono talmente consistenti nel settore della disabilità che oramai rendono impossibile alle nostre famiglie di vivere in maniera dignitosa e soprattutto assistita perché quello di cui abbiamo bisogno è l'assistenza. Come dicevo siamo genitori siamo ragazzi di giovani siamo studenti insegnanti di sostegno associazioni semplici persone che ci sostengono comunque molti educatori anche delle case dei centri diurni e riabilitativi perché questa è una catena che stende tutti cioè questi tagli stanno rendendo impossibile anche chi vuole favorire l'assistenza attraverso servizi di poter lavorare al meglio quindi tutti sono penalizzati quindi questo massacro noi ci stiamo rifacendo un pochino come logica al fatto che durante il nazismo ci fu la crisi economica e col progetto T4 vennero sterminate le persone improduttive e quindi le persone improduttive furono i disabili che finirono i forni crematori noi abbiamo fatto un paragone eccessivo per oggi diciamo che si perpetua un olocausto dei disabili attraverso questi tagli Lunedì prossimo il sindaco di Bologna Virginio Merola si recherà a Roma per ottenere dal Ministero dei Trasporti le risorse per le infrastrutture bolognesi avrà il sostegno bipartisan del Ministro Bernini ma intanto a Bologna c'è chi dalle fila del PD esprime perplessità su alcune tratte invece del servizio ferroviario metropolitano Giuseppe Piloni Sulle infrastrutture bolognesi il sindaco Virginio Merola incontrerà lunedì prossimo a Roma il Ministro dei Trasporti Altero Matteoli l'obiettivo principale è fare in modo che a Roma dirotti sul servizio ferroviario metropolitano per terminare il quale mancano quasi 200 milioni i fondi inutilizzati del metro poco conosciuto dalla gente come rivela un sondaggio Medec sul completamento del servizio ferroviario metropolitano sembrano ora convergere gli interessi di regione provincia e comune questi almeno gli orientamenti emersi da un convegno organizzato dalla provincia ma mentre il Ministro per le politiche comunitarie Anna Maria Bernini ha promesso un interessamento per ottenere una sorta di corsia preferenziale per le opere cittadine c'è chi a Bologna non nasconde perplessità su alcune tratte dell'SFM per Paolo Natali responsabile mobilità dei democratici bolognesi non è adatto ad esempio a collegare la stazione all'aeroporto come molti vorrebbero per Natali il servizio ferroviario metropolitano non è in grado di offrire in questo caso le frequenze necessarie ed è fortemente influenzato dalle esigenze delle ferrovie dello Stato legate alle lunghe percorrenze per il collegamento aeroporto e stazione meglio il people mover dice Natali anche se non vanno sottovalutati i rischi per le tasche della comunità questo nel caso di passivi di bilancio di gestione e se i passeggeri della futura monorotaia dovessero essere inferiori a quanto ipotizzato ma aggiunge Natali le previsioni di crescita del Marconi sono positive bene fa il comune ad approfondire ogni aspetto prima di licenziare il progetto esecutivo e a trovare altri soci per ridurre le esposizioni a TC conclude Natali ma l'azienda Trasporti deve restare coinvolta visto che gestisce la mobilità locale nella quale si inserisce il people mover il partito democratico dell'Emilia Romagna si interroga sulla convention dei rottomatori in corso in questi giorni a Firenze positiva se arrivano proposte nuove non candidature alternative dicono il segretario del PD dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ed il capogruppo del PD in regione Monari vediamo no ad una candidatura alternativa a Bersani se dalla Kermess dei rottomatori dovesse uscire unicamente questo non sarebbe certamente un fatto positivo a dirlo il segretario del PD dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini che a margine di un incontro del partito commenta così la convention organizzata dal sindaco di Firenze Matteo Renzi io dico che se vengono fuori dalla Leopolda idee programmi progetti proposte è un fatto positivo per il dibattito del PD e per il rapporto che il PD deve avere con la società italiana se invece dalla Leopolda l'unico elemento dovesse risultare quello di una candidatura alternativa a Bersani in un momento come questo io ho già detto pubblicamente credo sarebbe un errore perché di tutto in questo momento abbiamo bisogno meno che del rischio di un ritorno a contrapposizioni tra le persone ho sempre detto un partito in salute quando parla di idee molto e parla poco di nomi e cognomi ecco io aspetto fiducioso che arrivino proposte idee sul tema interviene anche il capogruppo del PD in regione Marco Monari aspetto di capire di vedere quali saranno le proposte prima di pronunciarmi non ho dubbio io vedo positivamente tutti gli incontri che sono in favore aiutano il PD quindi non ho dubbio che anche il contributo che avrà da Firenze sia un contributo per e non un contributo contro e dal convegno promosso questa mattina dal PD si è parlato di consumo etico e dei gas dei gruppi solidali d'acquisto che stanno nascendo anche nella nostra regione vediamo il consumo etico e i gruppi di acquisto solidale sono stati al centro dell'incontro promosso dal Partito Democratico che si è svolto nella sede della regione in Viale Aldomoro vogliamo dare impulso ad una nuova idea dello sviluppo e dell'economia ha sottolineato il consigliere regionale del PD Thomas Casadei il consumo etico è quello che è basato sulla qualità dei prodotti sul giusto prezzo e su un'idea del commercio e del consumo ispirata a dei criteri che sono quelli della trasparenza della solidarietà del rispetto del suolo e dell'ambiente che cosa si può fare per sostenere tutto questo i gruppi di acquisto solidale sono un'esperienza un insieme di pratiche che peraltro va diffondendosi in maniera molto significativa da tempo anche nella nostra regione qui è nato il primo gas nel 1994 a Fidenza ora sono tanti alcuni strutturati altri informali di certo ascoltare vedere e anche supportare questa realtà è a nostro avviso un contributo in una direzione che va appunto nella direzione giusta presenti all'incontro anche rappresentanti dei gas i gruppi di acquisto solidale sono del gas di Villa Verucchio il Vive Gas in provincia di Rimini come funziona un gas per spiegarlo anche ai telespettatori certo un gruppo d'acquisto è un insieme di persone sono delle famiglie che si riuniscono per acquistare direttamente prodotti di cui necessitano quindi beni di primo consumo come possono essere pasta frutta verdura detersivi e ci sono dei principi base che vengono queste famiglie diciamo si fanno proprie di questi principi e acquistano in questa maniera quindi prodotti biologici del territorio a basso impatto ambientale riduzione degli imballaggi c'è tutta una serie di principi che le famiglie decidono di farsi proprie e seguono gli acquisti seguendo questa logica pagina sindacale prosegue la lotta dei lavoratori dell'ex pastificio Corticella il sindaco Merola sta dalla loro parte dice di qui lo stabilimento non si muove resta in città vediamo facciamo il punto l'ex pastificio Corticella che oggi porta il nome di Nulat è patrimonio storico della nostra città e qui deve restare parola del sindaco Virginio Merola che non ci sta all'operazione di delocalizzazione proposta dall'azienda e si mette di traverso nella trattativa la battaglia dei 46 lavoratori del pastificio va avanti da qualche mese ovvero da quando hanno ricevuto altrettante lettere di trasferimento in altre sedi dell'azienda disseminate tra la Lombardia la Toscana e la Campania le trattative sindacali finora non hanno prodotto risultati positivi e tutti gli incontri si sono risolti in una deludente fumata nera dunque la Nulat non sembra intenzionata a fare passi indietro il gruppo proprietario dello stabilimento vuole chiuderlo e trasferire i dipendenti nelle altre sedi con la prospettiva poi di vendere l'area di via Corticella e costruire un nuovo impianto a Bologna magari in periferia il comune però è di tutt'altra idea il sindaco Merola irremovibile ribadisce come nell'attuale piano urbanistico non sia prevista la delocalizzazione ma al contrario l'intenzione di mantenere le attività produttive presenti sul territorio bolognese il sindaco dunque non ha usato mezzi termini con la proprietà il progetto irricevibile ha detto c'è una qualità del lavoro che va preservata siamo disponibili solo su questo tema e non su altro una posizione che non lascia spazio ad interpretazioni dubbi o fraintendimenti e visto che il 2 dicembre data prevista per il trasferimento dei lavoratori si avvicina si preannuncia una trattativa difficile nella quale anche la COP giocherà un ruolo importante dal momento che il pastificio produce prodotti anche con quel marchio che finiscono naturalmente nella catena della distribuzione negli scaffali dei supermercati ed ora ci fermiamo per un attimo arriva la pubblicità rientreremo in studio tra poco per parlare di sport ancora in diretta dagli studi di Etg rivediamo insieme gli argomenti del nostro telegiornale i magistrati bolognesi indagano sugli effetti degli scavi della variante di Valico che stanno provocando danni in appennino nei pressi di Ripoli si ipotizza il reato di disastro colposo in arrivo una consulenza tecnica nuova inchiesta della procura di Bologna su una presunta cellula islamica attiva tra Imola e Ravenna i 12 già indagati sono stati perquisiti dalla Digos trovati video con addestramenti alla guerriglia e altro materiale il PD Emiliano Romagnolo dice no ad una candidatura alternativa a Bersani il segretario Bonaccini attende l'esito della convention dei rottamatori a Firenze e dice benvengano le nuove idee ma il partito non può rischiare contrapposizioni tra persone viaggio a Roma per ottenere le risorse per le infrastrutture bolognesi il sindaco Merala ci sarà lunedì col sostegno bipartisan del ministro Bernini e incontrerà Matteoli intanto dal PD dubbi sul servizio ferroviario metropolitano calcio il Bologna prova a sfatare il tabù dall'Ara in campo domani alle 15 contro l'Atalanta che senza penalizzazione sarebbe seconda in classifica e il rosso-blu cercano i primi punti davanti al pubblico amico e appunto parliamo di calcio abbiamo visto appunto che il Bologna dopo l'ultima vittoria vuole tentare magari di ripetere l'appuntamento domani al Dall'Ara per le 15 contro l'Atalanta vediamo il servizio di Rita Mandini è ancora un momento di essere molto concreti molto pratici e quindi anche domani anche domani al di là del fatto che sicuramente dobbiamo crescere dobbiamo migliorare in alcune situazioni di gioco questo penso che sia che sia evidente però anche domani conterà molto l'approccio l'impatto e assolutamente il risultato perché noi vogliamo più presto rimettere a posto la nostra classifica e domani abbiamo un appuntamento molto molto importante contro un avversario molto difficile che sarebbe secondo in classifica senza penalizzazione molto difficile da affrontare perché è una squadra praticamente molto coperta che si chiude molto bene che chiude molto bene i spazi in linea difensiva che stringe bene che difende bene la porta che sa ribaltare il campo con dei giocatori molto veloci come Schelotto come Morales che ha una punta centrale come Lennis che in questo momento sta facendo molto bene un impianto di gioco consolidato e quindi consapevoli che andremo a incontrare delle difficoltà però io insisto su questo stasto e ci sta dando anche dei grandi vantaggi e l'unica volta che non l'abbiamo fatto poi dopo siamo usciti troppo presto da partita noi non ci dobbiamo far condizionare dalle eventuali cambiamenti dei risultati nel corso della gara ma dobbiamo rimanere dentro la partita addosso gli avversari per 95 minuti con grande continuità con grande intensità anche perché sono convinto che abbiamo le qualità per trovare le giocate giuste per trovare il guizzo giusto per trovare le situazioni giuste per mettere in difficoltà i nostri avversari Atalanta che sia o i prossimi avversari che incontreremo ed ora andiamo di nuovo in pubblicità rientreremo in studio fra poco restate con noi ed infine vi ricordiamo che questa sera questa notte alle tre ritorna l'ora solare le lancette dell'orologio dovranno essere spostate un'ora indietro e farà buio prima dunque questa notte dormiremo un'ora in più l'ora legale ritornerà il prossimo 25 marzo del 2012 ed ora rivediamo ancora una volta gli argomenti del nostro telegiornale i magistrati bolognesi indagano sugli effetti degli scavi della variante di Valico che stanno provocando danni in appennino nei pressi di Ripoli si ipotizza il reato di disastro colposo in arrivo una consulenza tecnica nuova inchiesta della procura di Bologna su una presunta cellula islamica attiva tra Imola e Ravenna i 12 già indagati sono stati perquisiti dalla Digos trovati video con addestramenti alla guerriglia e altro materiale per reclutare possibili combattenti il PD Emiliano Romagnolo dice no ad una candidatura alternativa a Bersani il segretario Bonaccini attende l'esito della convention dei rottamatori a Firenze dice ben vengano le nuove idee ma il partito non può rischiare viaggio a Roma per ottenere le risorse per le infrastrutture bolognesi il sindaco Meral ci sarà lunedì col sostegno bipartisan del ministro Bernini e incontrerà Matteoli intanto dal PD dubbi sul servizio ferroviario metropolitano calcio il Bologna prova a sfatare il tabù dall'Ara in campo domani alle 15 contro l'Atalanta che senza penalizzazione sarebbe seconda in classifica il rosso-blu cercano i primi punti davanti al pubblico amico ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti